Minecraft ma riceviamo un oggetto ogni 10 secondi ma siamo appunto sospesi in aria ed è una sfida 1 contro 1 contro 1 dove vince la persona che riuscirà a mettere più villager nella propria base E ovviamente vale killare villager altrui quindi è anche una sfida pvp ma alla fine del timer vincerà la persona che appunto riesce ad avere più villager nella propria zona Non so se i villager si buttano da soli di sotto quindi non so se ho bisogno di fare dei muri ad esempio per contenerli Secondo me si eh Lo scoprirò solo vivendo Allora Di sicuro Secondo me quando camminano non riescono a fermarsi vediamo Non lo so farei poca fiducia in loro Eh ma sta facendo un tentativo Marco puoi vedere guarda Io lo guarda guarda il mio Sta fermo lì Allora eh sì però ha poco da passeggiare secondo me quando passeggia poi scivola Vediamo Ok io gli metto una barca nel caso Che bella quella barca Allora Ecco guarda Sei seduto nella barca perfetto Mi sembra pericolosa questa cosa Secondo me Io quel villager lo vero già un po' Un po' andato Io so che già per certo che uno di voi due avrà tipo il bucket d'acqua Sarà così simpatico da piazzarmelo e da far cadere giù il villager Così fa la cascata capito Ma guarda proprio non mi interessa in nessun modo Opla Guarda che bel banner che ho Ogni volta li trovo subito Io non sto trovando blocchi sono qui ferma a trovare così inutili tutto il tempo Bello Ho pensato mi servirebbe un letto e mi ha dato un letto Io però ho trovato anche una fence Questa è ottima per non farli cascare magari Sì quella è ottima Però una non mi serve niente Maledetto Secchiello di latte Secchiello di latte? L'ho buttato Beh Sì Ed è al momento non me ne faccio nulla Abbastanza inutile dai Ho uno stray Chi lo vuole? Allora Opla Ah non vi ho detto che ovviamente la sfida durerà dieci minuti Ok Ok Però io la farei partire da adesso Va bene Perché così si ingrana Allora Guarda che io ne ho messi due di villager Sì sì bravo bravo Guarda due barche Due barche Ma ce ne stanno quattro teoricamente no? È vero Aspetta Vediamo Riesci a farli sedere? Aspetta Entra Bravo Bellissimo No Facciamo un disastro qua Facciamo un disastro Se vuole fa cadere tutte Io una barca ma porre che caschi tutto di sotto Ok Ok Ne ha quattro nelle barche Allora Io punto al futuro Più che adesso Però sto avendo abbastanza sfiga con i blocchi Eh Furio Cioè guarda Non ho neanche una pedana Non ci sto neanche io Figurati di villager Allora Ecco Appena detto sortuna È arrivata la fortuna Blocco di legno Che è trasformato in quattro Bellissimi blocchi Opla Beati voi Io non sono più trovato nulla Ok Penso di avere al momento la base più grande Non lo so Quanto è grande Sì 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 Vero Perché c'è i blocchi di legno Sì sì Assolutamente Oh no Vabbè Opla Ancora Sposa la barca di sotto Allora Quindi Devo creare Volevo spostarle Ma è caduta di sotto Questa volta è utile trovare anche le armi Per poter difendere i propri villager Quello sì Allora io ce l'ho Io ho una zappa di ferro E un piccone in oro Io ho un ascio in oro Che comunque fa un po' male Mica male Punto Questa ancora è giù Però tanto non la faccio Anzi avrei potuto usarla come muro Ho pensato non mi servono i muri In realtà i muri mi servivano Grave Cade giù Non faccio lo stesso errore due volte Io ho trovato solo la concrete No Io non sto trovando niente Oh guarda Ah però è concrete anche questo No va bene Va bene Va bene Va bene Ok La mia base è bella grande Io penso che qui ci possono stare tipo sei villager Ok Allora Nuovo letto Opla Perfetto Due blocchi quindi Trovare il letto vuol dire avere due blocchi Trovare un logo vuol dire avere quattro blocchi E sono le cose più fortunate che puoi trovare Assolutamente sì In questo genere di video Ok Vero 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 Che poi stanno rimanendo davvero fermi nelle barche Cioè incredibile No 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 questo si muove Però è tranquillo per ora Io starei tranquillo Per ora Per ora Come on Però vedi che passeggiano Voglio qualcosa di bello Ok vabbè Se continui a vendermi i blocchi Io ho poco da lamentarmi Effettivamente Facciamo così Io non sto avendo veramente nulla Il carpet Ma che brutto Io ho una base microscopica Wow Di nuovo legna Vabbè Ma guarda la fortuna di questo Opla 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 E direi che mi allargo anche di uno Alla destra Perfetto Un blocco di redstone Mamma mia Ma c'ho una villetta io Guarda la base che ha quello lì Guarda te Fere è quella messa peggio Mi sa Guardami sì C'hai un buco Aspetta Tre Cinque Sette blocchi Ho trovato un letto però Dai mi posso espandere Però secondo me Qui Ah no Ma non hai messo un log come blocco Eh no È già lavorato E l'altro Quello Sopra il log Cioè sopra il blank Questo No no è un'altra cosa Ok Purtroppo non ho trovato Row grezzo Ma vogliono anche i cavalli No Non lo so No ho mosso la barca Magari un villaggio Vole salire sul cavallo Non lo so Allora questo me lo tengo Però per adesso non lo utilizzo Lo metto qua Ok Casa di Marche affollata Eh già Infatti non so quanto io abbia fatto bene A fare questa cosa Perché Io preferisco farlo alla fine Io penso che Tipo quando mancano 30 secondi Li spono tutto Tutti E quelli che rimangono Ragazzi Se avete intenzione di invadermi Ho avuto una fortuna aggiuntiva Mi sa Cos'hai? Ok Ho un uovo Ok Che è meglio non spawnare Io ho il weeder Giusto per Quindi Oh no Quello è odioso Eh già Io indietro Però non mi fido tanto Di quel step Io c'ho una spada di diamante Quindi Eh vabbè Ma tutto lui E trova i blocchi E trova l'armatura E trova le spade Ma porca miseria Ok Perfetto Qua facciamo anche estetica Guardate Pensiamo a tutto Ok Allora Devo continuare a farmi il muro Per difendermi No raga vabbè È la quarta volta che io trovo legno Ma che fortuna c'ha Questo ragazzo Io non so che dirti Guarda È veramente impressionante Lo metto io stesso Non so neanche io cosa dirvi Guardate Mi sono quasi fatto un muro Ma secondo me è in creativa Eh Io farei un test Vediamo Pere può guardare il mio schermo Quando vuole Vediamo No non è in creativa purtroppo Avrei preferito lo fosse Ma purtroppo non lo è Ok ok Mi fido Qua credo che ci siano Circa una ventina di villager Senza avere più spazio Per muoversi Però lo scoprirò dopo Quando mancherà poco Alla fine Allora E se volete sapere Il timer Ok Siamo a Cinque minuti di dieci Della sfida Ok Ok Sì Non siamo per niente Mestibane Stava facendo una murale Anche lui Sì 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 Io non mi fido di te Ma neanche io di te Chiariamoci Cioè È reciproco Però ti avanzi Così eh Così Brava 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 Sì 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 Perché voglio vedere Se arrivo a mettere A piazzare l'uovo Ah Fino a frangere Niente 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 Stai attento Allora Non ho detto niente Beh tico Solo stai attento Poi Sì 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 Certo Fai quello che ti pare Ma nel caso Sbaglio tipo Dimmi fiere No Che vi state facendo Delle muraglie a vicenda E non state pensando De villager Ma voi stessi E beh Perché alla fine È la storia dell'umanità Devi pensare a difendere Le tue persone Non tanto ad espanderti E basta Quindi qui Quello è vero Però Però Qui ci sono conflitti Questa è una guerra fredda No 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 Guardalo guardalo Allora Opla Ma ne chi ti sta calcolando Sì 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 Certo certo Va bene Chissà quante uova Terribili ha Quella fortuna Che sta avendo Non dico niente Siete due paranoici Eh facciamo bene Si sta proteggendo Anche verso di te adesso Non si fila neanche di te Io poi devo espandermi Verso quest'angolo qua Di pozzol Eh ma guarda Che il tempo è poco eh Vabbè quanto tempo abbiamo Quattro minuti Quattro minuti E io non trovo blocchi Quindi non so neanche come fare Degli assalti E quello è il problema Perché resti fare degli assalti Perché poi si faranno gli assalti Alla fine è ovvio No Puoi giocarla sulla vittoria Certo Io ho un uovo da utilizzare Cioè Minecraft Me l'ha dato E che non lo utilizzi Guarda mi ha appena Un'armatura E non vedo la Di saltarti addosso Ah si 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 Avvicinati E dai Mi sto avvicinando Sempre Tanto non lo puoi mettere Lo so Io ti piazzo un corallo Da qualche Non è ancora il range Guarda lì Infame maledetto Ma villager Vai via per favore Non c'entri niente In questa battaglia Guarda Finalmente ho trovato Un pezzo di legna Pure io Quattro blocchi Pur di lanciarsi E certo Pur di lanciarsi Ah prima volevo dire Ma Dove sei sponato? Non lo so No Cosa ci fai a casa mia? Non lo so Vattene Perché sono qua? Allora posso utilizzare Un attimo la creativa Credo che Sì Sì Perché non voglio Vedere nulla di brutto Chiedo scusa Però è successo Allora Allora Opla Opla Ok dai Altri blocchi Altri blocchi Mamma mia C'è una cattiveria Spada e accella Sto così Guardatemi Va bene Un vichingo Uno e due Non fai molta paura Tu mi dispiace Ma come no? Eh insomma Non è anche che Puoi andare a zappare Se vuoi però Per combattere Non sembri fortissimo Io comunque Ho un po' da feri Mi proteggo Perché secondo me Lei qualche uovo di shulker Ce l'ha Non so cosa me lo dici No Ho un guider e basta È un sacco di secchielli Con pesce e acqua Quindi quelli possono essere utili Per farvi cascare Tutti i villager Io ho un'altra barca Quindi villager Ok Allora Manca poco eh Manca poco Perché mancano soltanto Due minuti Ok Tra poco è ora di Mettere i villager Comunque le marca Ancora non ne sono mai caduti Eh infatti È un'ottima notizia Quello che stavo guardando Pure io Adesso io li metto E si butteranno Di sotto tutti Sì sì ovviamente Sicuro eh Sicuro Lo so già Allora Ok Bella questa Non mi serve niente Sì Io ho una protezione Se vuoi Tieni Ma Che tristezza Tieni una mucca Oh grazie Eh si è già morta No Ma Prima di nascere Allora cavallo mi dispiace Devi andare giù No devi Eh lo so ma non c'è spazio qua Dobbiamo preservare Allora Perfetto Ok Allora questa è la mia piattaforma Bene o male Ragazzi Manca meno di un minuto Eh Io inizio a metterle a sto punto Allora Anche io Sei sicuri? Sì Sei sicuri sì? E se io avessi un ghast? Io immaginavo che tu avessi un ghast No non ce l'ho Sto scherzando Vi prego non buttatevi Allora Io ci sto più raga Quanto stai mettendo Feri? Aiuto Raga non c'è spazio Non c'è spazio Ne ho ancora 45 Non c'è spazio Sta finendo il tempo eh Ok Potete sapere il numero In base a quanti ne avete esponato E quindi quanti ne avete poi Nell'inventario Allora Io ho anche i mini I mini villager Non so voi Anche io Gli ho finiti Gli ho messi tutti Guardate la mia isola Raga ne vedo cadere Si stanno buttando da me i mini Perché ne ho messi troppi No non sono i mini villager Stanno facendo un disastro Sì 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 È finito il timer Fermi tutti Fermi tutti Andate in creativa Ok Io li ho piazzati tutti eh Ok Mi stanno uccidendo Stanno parlando tantissimo Ma Mark ha un quantitativo di suicidi fuori di testa Ma anche io Guardali Guardali come si buttano Cioè È scandaloso Quello che avete creato Da me Perché da me Sono tranquilli E da voi si suicidano Non lo so Perché sono i piccoli Sono i piccoli Che fanno un disastro Vedi che sono quelli Che si lanciano Perché corrono Guardali Ma dai Da me sono tranquillissimi Cioè Sembra tipo una società pacifica Quella di Mark Che è l'anarchia Sì davvero Te ne sono rimasti 15 A te Ti va bene Quanti sono? Un, tre, quattro, cinque, sei Ne hai tipo dodici Una roba del genere A me più o meno Cioè io li ho sponati tutti Stef Sono tutti buttati piccoli 18, 20, 22 Io ne ho tipo 30 E non li ho sponati tutti E questa è la cosa divertente Però sono rimasti tutti lì Allora 4, 6 Sembra che sono quello Che ne ha di più Sì anche secondo me Cioè occhio Sì guarda l'occhio Sì 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 Perché noi sono farsi Tutti piccoli Scusami Allora Forse ci sono arrivato Tu li hai spammati Molto in fretta Fere Velocissima Stava finendo il tempo È per quello Tu invece Stef Li hai messi con calma Molta calma Ma nessuno me l'aveva spiegata Sta roba Che poi i piccoli Si buttano Mentre invece i grandi Eh non lo sapevo neanche io Però ho pensato Piazzo con calma Perché non voglio farli cadere Ma ragazzi Ma la mia isola È tornata come all'inizio Sì È vero Cioè Praticamente ci sono solo quelli Nelle barche Tutte le tue sono andate all'inizio Vabbè non ho parole Fantastico Comunque Ci vediamo così E probabilmente La sfida più stupida Che abbiamo mai registrato Fino ad oggi Siamo Aspettate un attimo Lui che era Ci sfoghiamo con tutto Quello che avevamo Ma anche lui Nei complimenti Beh vi faccio un applauso Qui sotto compagno Altro video Iscrivetevi al canale Cappellino E ci vediamo nel prossimo video Ciao ciao Ciao